Bloccata sul filo di lana, l'apertura ufficiale del tour dello spettacolo Les Mures del controverso comico francese di Eudonné Mbalan-Balà, più volte condannato per antisemitismo. Su ricorso del ministro dell'interno francese Emmanuel Valls, il Consiglio di Stato francese ha annullato il via libera del Tribunale che revocava il bando del prefetto Dinan ed ha nuovamente vietato lo show considerato una minaccia per l'ordine pubblico. Il braccio di ferro degli ultimi giorni tra il legale del comico e le autorità francesi, con intervento addirittura del presidente François Hollande, ha comunque generato molta pubblicità, tanto che Annand Lemur ha venduto 5.000 biglietti.